Si preannuncia scoppiettante la seconda edizione del Ponte Comics & Fun, la fiera dell'intrattenimento pop che si terrà sabato 17 e domenica 18 novembre all'interno dell'ex tabacchificio Centola di Ponte Cagnano Faiano. Una due giorni dedicata a videogiochi, serie tv, mondo web, cosplay e fumetti che nel tempo vuole diventare sempre di più un punto di riferimento per il territorio. Fiore all'occhiello dell'edizione 2018, la presentazione in anteprima, domenica alle ore 15 e 30, della leggenda di Thor La Morte degli Dei, uno dei musical più attesi del panorama teatrale del 2019. Un incontro al quale parteciperanno gli attori Daniele Venturini, Domenico Prezioso e Tony D'Alessio e la sceneggiatrice del libro Ilaria Licenziato. Sono molto orgoglioso, davvero, sia come appunto organizzatore, ma proprio come cittadino di Ponte Cagnano, di avere una bella lista di ospiti, di diciamo rango nazionale. Cioè molti ospiti sono appena scesi da Lucca, Lucca Comics che è la fiera più importante d'Europa forse. E quindi niente, come ho detto, il Ponte Comics è una fila dell'intrattenimento che unisce la parte cosplay, la parte games, film, serie tv, tutto quello che è la cultura pop, tutto quello che è il fumetto, racchiuso in un'unica edizione che accontenta un po' tutte le età. La cosa più importante è che, a differenza, diciamo, di quello che potevamo fare quando abbiamo avuto un primo riscontro, è stato quello di metterci alla prova. Nuova location, nuovi ospiti, nuove sezioni, tipo quella del doppiaggio, cioè l'evoluzione, cioè la voglia di arrivare in una maniera, diciamo che mentre la prima, questa qui viene definita la seconda, io la definisco la primavera, la prima, quella che abbiamo avuto l'anno scorso era una demo in realtà. Quindi la nostra idea è stata quella di evolvere, di andare, di capire, tastare effettivamente il feedback di alcune cose, migliorare, alzare il livello e soprattutto proporre al pubblico una proposta che fosse comics and fun. È importante questa cosa, cioè divertimento e contenuto. Mischiare le due cose è per noi, diciamo, che è il nostro target, la nostra vision e la nostra mission. Io mi sono occupato della parte del fumetto, essendo io comunque un autore bonelliano da 25 anni e quindi era materia che comunque conoscevo. Niente, abbiamo pensato di portare qui a Ponte Cagnano due realtà che comunque al momento si fanno comunque sempre in un certo senso sentire. Innanzitutto quella realtà bonelliana, quindi comunque abbiamo portato tre autori bonelliani che da anni comunque sono delle colonne della Bonelli, lavorando appunto su testate tipo Tex, di Landoghe, il commissario Ricciardi. Sto parlando di Alessandro Nespolino e di Gianluca e Raul Cestaro, napoletani che appunto sono da anni legati, hanno legato il loro lavoro alla Sergio Bonelli di Torre. Poi abbiamo pensato di portare una nuova esperienza che sta interessando il mondo del fumetto. La Polizia di Stato ha da un anno, sta cominciando a pubblicare sulla propria rivista ufficiale, Polizia Moderna, le avventure del commissario Mascherpa, che è un poliziotto di diamante, quindi calabrese, scritto appunto da un calabrese, Luca Scornaienchi. È un progetto molto interessante perché in qualche modo unisce, permette diciamo così al fumetto di veicolare tutta una serie di messaggi positivi, quindi la legalità rispetto dei valori migliori, soprattutto in questi tempi secondo me è sempre bene non abbassare la guardia.